Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di un mondo di cubi Allora ragazzi sta arrivando proprio ora la notte E questo non sarà un episodio come tutti gli altri Bensì sarà un po' più corto e sarà un episodio speciale appunto per Halloween E vi voglio far vedere un attimino prima di cominciare questo video appunto Che ho fatto dei lavorettini off camera riguardanti la farm di scheletri E ve le faccio giusto vedere così molto velocemente Vedete ho fatto già tutto quanto lo scavo relativo alla farm Poi vi andrò a spiegare nel prossimo video come farla E però appunto in questo video sarà uno speciale Halloween Perché sfrutteremo diciamo la novità che è stata introdotta Davvero quella di poter cacciare diciamo di poter avere le streghe ecco Appunto cacciandole quindi faremo una caccia alle streghe per Halloween Allora come fare una caccia alle streghe Prima di tutto bisogna andare in casa perché devo rifornirmi un po' meglio Perché mi sono appena accorto che così non posso andare veramente da nessuna parte E quindi torniamo un attimino in casa ragazzi E là c'è un ragno E là c'è un ragno che non manca mai Il ragno lo mandiamo via E allora vediamo un attimino se ho del cibo Posso farmi del pane Che più che posso appunto faccio subito Ok E mangio anche direi Ok Vediamo un attimino i nostri carissimi amici mob Cosa vogliono Guardateli qua Guardateli lì Guardateli come ci provano Mamma mia Allora appunto non ammazzeremo solo streghe Ma purtroppo anche altri mob abbastanza rompiscatole Cercheremo anche di illuminare un pochettino la zona Ok Quindi prendiamoci anche un po' di carbone Ok perfetto E Che cos'è? Dov'era? Oddio Mi riesce a sparare dalle finestre ragazzi Guardatelo là sto ragno camperone Muori Dove sei? Eccoti lì Maledetto Vieni qua No Vieni qua Vieni qui Ok Fatto fuori Allora direi che Non possiamo più craftarci altro da mangiare No Vediamo un attimino Questa patata me la droppata uno zombie Direi che me la tengo Perché almeno rischio di poter mangiare qualcosa E si mi sa che ora esco E Che Appunto Auguratemi appunto buona fortuna E di non morire subito Allora Cercare le streghe così è veramente una Brutta faccenda ragazzi Allora Cerchiamo di non correre Perché il problema fondamentale è il cibo per ora Allora qua già abbiamo uno zombie Eccola là la prima strega L'ho già vista L'ho già vista L'avete vista anche voi mi sa Vero? E laggiù Eccola là Ok Primo obiettivo Vediamo quante streghe Riusciamo a Uccidere Come al solito vi consiglio di Ehm Guardate la Guardate la Maledetta Mi ha subito visto Quante Che cos'è Che cos'è Due streghe Oddio No due streghe sono un po' tantine Allora calmati Calmo no Il ragno pure no Il ragno pure no Stai lontano raggniaccio del cavolo Magari anche lo zombie potrebbe darci un po' di cibo Ok muori caro zombie Ok E Via sulle streghe Via Forza 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 Fuori Fuori una dai 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 Ok Una l'abbiamo fatta fuori Una l'abbiamo fatta fuori Una l'abbiamo fatta fuori Corriamo via Prima strega killata Si qua Però tra un po' ci ammazzano a noi No Là c'è subito Un bellissimo Scheletraccio Che ci ha visto Logicamente Oddio Oddio là c'è un altro Oddio Santo ragazzi Aiuto Arrampicati Oddio mio Allora Mangiamo sto farino qua E Stancherlo occhi di ragno Ma si Ok Te con la spada E' meglio che mi stai lontano Perché Mi ispiri poca fiducia Oddio Via 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 Quanti siete Cos'è una festa Vi siete vissuti da zombie Vedo No Via State lontani Lontano da me Uh la spada Grazie No Oddio Ragazzi qua si rischia Qua si rischia nel bosco Oddio mio Ho anche la luminosità piuttosto in alto Quindi dovreste riuscire a vedere Capire tutto Ok qua ho visto anche il ragnaccio Che non manca mai giustamente Vieni qua va Vi ammazzo tutti quanti Forse Speriamo Oddio mio ragazzi Guardate quanti ce n'è Via 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 Scappa Allora Ragazzi Questa è veramente la situazione del cavolo Se potevo fare un video un po' più tranquillo per Alumin anche io No Devo per forza fare una cosa del genere Muori 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 Ok Perfetto XP A tutto andare Molto bene Mangiamoci un po' di carne marcia Si siamo piuttosto messi male a causa del cibo direi La strega qua si è poi desponata Vedo con piacere Purtroppo Quindi mi sa che bisogna spostarsi in un'altra zona Per andare appunto a cercare altre streghe Oddio Ho fatto veramente fatica Uuuu no no lo scheletraccio no Lo scheletraccio no Lo scheletraccio no Però io stavolta non mi faccio uccidere Perché ho la casa Abbiamo anche dei carissimi enderman a fianco a casa Che però Direi che non è ancora ora di attaccare Proprio per niente Uuuu Ok siamo riusciti ad entrare in casa almeno Mamma mia ragazzi Caccia le streghe Sta andando piuttosto malaccio direi Perché abbiamo fatto fuori solo una strega Allora Ci serve del cibo Ma come ce lo procuriamo del cibo? Killando altri zombie vero? Vieni qua Vieni qua Ok Perfetto Allora Vediamo un attimino Senza magari correre Mmm Io streghe non ne vedo Uuu Là ce n'è una ragazzi Là ce n'è una Là c'è anche un creeper Se è per questo Ok andiamo da quella Da quella là Andiamo da quella là Che Mmm Ah proprio vuole di morire Me lo sento Ok Dai dai su Corri corri Così fai andare proprio tutte le cosciotte che ti sono rimaste Ok Allora Stiamoci attenti Ok Eccola guardate là Che sia lontana Quella maledetta Oppa Mi ha tirato una pozione Ma non ce la farà Perché la uccidiamo Opla E ok L'abbiamo fatta fuori Anche stavolta Quindi siamo due streghe ragazzi Ok La caccia Uh mi ha droppato poi dalla redstone Quella Grandissima Signorina Allora Però è ora di tornare in casa Perché Vedo che le cosciotte Scendono Veramente Veramente Troppo in fretta Ok Torno dentro Ok Ho rischiato di vedere un enderman Tra l'altro E qua Vieni 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 No 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 Non ti ho guardato Non ti ho guardato Non ti ho guardato Ma non ti ho guardato Ma forse si E forse ti ho guardato Mi sa che ti ho guardato Si entrate tutti Va facendo così Entrate Prego C'è posto per tutti Prego prego Venghino Venghino signore e signori Ok Prego prego Che c'è posto Per tutti Facciamo fuori Tutti quanti Prego Entrate pure Aiuto Vi ammazzerò tutti Sono sicuro Dai vieni vieni Io salgo sul letto Vi ammazzo da qua Guardate C'è un enderman qua fuori Che mi sta Veramente sclerando Se riesco a far fuori L'enderman Sono soddisfatto Ragazzi Vai muori Oddio ma che situazione è Cioè Solo io posso mettermi In certe situazioni Solo io posso Oddio che cosa apro La crafting table Non mi sembra Proprio il momento Allora Con calma Sempre facciamo entrare Ancora qualcuno Tanto ormai Non è più un problema È una festa di alloghi Tra l'altro Dai Dai La mia casa è entrata Uno spawner Di zombie Farei Ci farei lo screenshot Qua ragazzi E qua lo screenshot Ci sta tutto Ok Sorridete Che andate Tutti quanti su youtube Ok Perfetto Lo screenshot È stato fatto Ragazzi E Sti qua sono ancora qua Però Allora No 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 Non puoi passare di te Però mi dai Tanto bel cibo Grazie Invece Invece Quell'enderman Del cavolo È ancora là Che Vuole griffarmi Tutto quanto Adesso Enderman Io ti pollerò Se riesco No non ci riuscirò Vero Allora Prima di tutto Devo uccidere Sti maledetti I signori Maledetti Ecco E poi Cerchiamo di far fuori Anche L'endermanno Oddio Mi ha sfiorato Cavolo Se mi ha sfiorato Mi ha sfiorato E comunque La notte è finita Cavolo ragazzi Qua Siamo messi Un po' malaccio Mi sembra Sì Non posso dire Di essere messo bene Allora Vediamo se abbiamo Qualcosa a mangiare Abbiamo fatto fuori Solo due streghe Mamma mia Però la situazione Non è delle migliori Direi Dove cavolo sei Enderman Dove sei Sarà sul tetto Vero ragazzi Però io adesso Esco E lui Mi Squarta Vivo Vero Oddio Cioè io gli odio L'enderman Adesso Devo stare qua Un'ora Cercare di capire Dov'è Vero Ragazzi Faccio un piccolo Stacco Tanto aspetto Anche di Buonanotte Io non Non mi muovo Finché Quello Non si Despauna Tanto E ci vediamo Tra pochissimo Ok ragazzi Eccoci Ho deciso Di fare una cosa Che sono costretto a fare Perché altrimenti Davvero qua Muoio sicuro Quindi prendiamo Due pezzi di ferro Ok E prendiamo Allora Andiamo un attimo Qua fuori Piazziamo L'acqua Qua un secondo Ok Perfetto Andiamo di sotto La ne prendiamo Dell'altra Di acqua E Cosa voglio fare Praticamente Devo fare Assolutamente Una Una piccola farm Di patate Visto che ho una patata Tanto va La usiamo Anzi patate E anche di grano Qualsiasi cosa Ragazzi Non mi interessa Basta che Si possa mangiare Ok Quindi mettiamola qua Perfetto Acqua infinita Poi logicamente Farò un pozzo Per renderla Tutta un po' più Carina Comunque Devo Assolutamente Fare una zappa Altrimenti qua muoio Quindi Zappola Zappola Eccola qua E Voilà Allora Adesso per fare A proposito Mangio qualcosa Trenanti muoio di nuovo Mamma mia Che due scatole Staccare i zombie È impossibile da mangiare Comunque abbiamo sbloccato Anche un nuovo Achievement Allora Andiamo di qua 1 1 2 3 4 5 Quindi qua Più o meno Andrà messa l'acqua 1 2 3 E 4 Ok quindi 1 2 3 4 1 2 3 4 E cominciamo a Appunto Zappare tutto Logicamente Per chi non lo sa In un raggio di 4 Il raggio di 4 4 4 È il massimo Che può fare La nostra carissima Fonte di acqua infinita Quindi Di acqua Di acqua infinita Non c'è anche niente Ok quindi Perfetto Sono rimasto un attimo Attenuto Aromatizzato La scorsa serata Ragazzi Perché Ho ucciso solo 2 streghe Però Ho litigato con Centinaia di zombie Ne colpivo 1 Se ne spawnano 8 E Davvero Sta cosa che si spawnano Altri zombie È veramente Molto difficile Da Da controllare Bisognerebbe riuscire A sfruttare Una farm Anche lì Bisogna inventarsi qualcosa Comunque È Tutto appunto Possiamo piantare Cosa vogliamo Adesso quindi Via con Il Pianting E Utilizzeremo anche Un po' di Queste Di queste ossa Per far crescere Tutto più in fretta Quindi patate Grano E semi Eccoli qua Ok E andiamoci giù Pesante Con tutto quanto Perché altrimenti Qua davvero ragazzi Moriamo come dei cani Quindi adesso Pianto tutto Poi le patate Eventualmente Se crescono Le faccio anche cuocere Anche se penso Che ripianterò tutto E E niente Quindi faccio questo piccolo stacco Come avevo detto Aspetto la notte E ci vediamo tra pochissimo Dopo tutti i miei sforzi Non cresci niente Però là c'è un pollo Che Mangerò Crudo Perché ho veramente fame Vieni qua pollo No ragazzi Devo fare appunto Un altro Piccolo movimento Ovvero andare A pigliare del cibo Ok ragazzi Rieccomi E Si sta facendo Cioè meglio Si è già fatto notte Vi sto andando più Che caccia di strega Caccia di schede Scheletri Perché ho bisogno Del loro bomil Ok grazie scheletro Anche se sei cattivo Grazie Ok mi serve assolutamente Il loro bomil Per fare le patate Perché Sto morendo Veramente male Sto morendo veramente male Ma c'è pure la luna Stile Halloween La luna Completamente coperta Eh No forse è la luna Piena che fa più Stile Halloween Si mi sa di si Comunque qua ci sono Delle Goodissime Goodissime Sottolineo Patate Ok Qua non c'è ancora Cuscito niente Perfetto Però le patate Le andiamo a far cuocere Vero Così almeno possiamo Mangiare qualcosa E uccidere altre streghe Io odio le streghe E le ucciderò tutte Ok E nel frattempo Facciamo fuori qualcuno Vero Tipo Uno scheletro Esatto Ok 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 Creeper no Zombie no Nessun altro Solo io lo scheletro Che non mi ha manco Droppato le ossa Quel taccagno Di uno scheletro Mamma mia Allora Là c'è pure uno Con la spada Giustamente Perché Cioè sono più Occupati di me Sti zombie Muori 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 Ce n'è per tutti Con calma Ce n'è per tutti Ce n'è per tutti State calmi Ce n'è per tutti Oddio Mi sa che continuerò A mangiarmi sta Bella carne marcia Che ormai proprio Che ho fatto Mi sono fatto il palato Per la carne marcia Mmm Ovunque sono sti zombie Ovunque Everywhere ragazzi Everywhere Sai cosa facciamo Entriamo in casa Ci direi che Questa è una soluzione Volete entrare Maledetti E non c'entrate E non c'entrate No tu sei entrato Però eh Avevi il pass Ok Entra che te Perfetto 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 Abbiamo un po' Di cibo Adesso Adesso si Adesso abbiamo Un po' Di cibo Ragazzi Comunque Questa qua È l'ultima notte Che abbiamo Per diciamo Uccidere delle streghe Perché appunto Poi se no il video Verrà lunghissimo Che qua ci sono Poi delle patate Ok Mi sento pronto Per andare a uccidere Tutti quanti Usciamo convinti E troviamo Già uno zombie Ma perché Solo zombie Dai Un po' Di fantasia Perfavore Ok Vediamo Vediamo Cosa troviamo Troviamo un creeper Dai Lo uccidiamo Anche lui Poverino Non facciamo Discriminazioni Oppa Ok Ucciso anche Il creeper Là c'è una strega La number 3 Ok Però è Circondata Leggermente Da scheletri Vero Sì Vieni qua Bello scheletro Vieni qui Vieni qui Vieni Vieni qua Vieni qui Ti ucciderò Ok Ne puoi droppare Il bomb mille Tirami le pozioni Mi tiri le pozioni Mi tiri le pozioni Direi di sì Dai Opa Mi hai mancato Mi hai mancato No Mi ha beccato Mi ha beccato Con la pozione di lentezza Comunque Terza Strega uccisa Molto bene E Non ha fatto Non hanno un verso Le streghe Ora che Ne uccise ben tre Comincio a conoscerle meglio Ecco Allora Entriamo in casa Vediamo cosa c'è droppato Glowstone Glowstone Questa è utile Uh e poi delle ossa abbiamo Ok La situation Si sta aggiustando Ragazzi La situation Ci sta Si sta aggiustando Sto Diciamo Bruciando tutte le torce Che ho Perché tanto ho trovato Un dungeon Quindi ormai Me ne sbatto Alquanto Allora Prendiamo tutte queste Belle patate No cavolo Zombie Mi metti l'ansia Via Anzi Mangio pure Toccarne Perché c'ho fame Ok Là c'è un altro Scheletro Che vado giustamente A uccidere Perché mi servono Le sue ossa Che sicuramente Non mi dropperà Vero Vero che non me le vuoi droppare Le ossa Ma perché spara Non mi ha droppato Manco le frecce Altro che le ossa Oddio Allora Però ragazzi Qua bisogna muoversi Perché La notte Sta per finire E le steghe da uccidere Sono ancora tante Sento già uno zombie Tra l'altro Sta usciamo Ci diamo pure questo zombie Dove sei? Eccolo lì E uno Era uno Un secondo fa E i zombie Sono peggio dei Non lo so Sono peggio dei Non lo so Ecco Non lo so Penso che sia Il paragone migliore Allora Mangiamoci La carne marcia Che ci piace sempre E andiamo a cercare Altre streghe Altre streghe Altre streghe Però dall'alto Cioè dall'alto Doviamo riuscire a vedere meglio Vediamo un attimino Se riusciamo a vedere qualcosa Ma C'è C'è una festa Alla dietro i zombie Che oddio Mi si è spawnato in faccia Questo fa Non ti puoi spawnare Di fronte a me Cioè Non puoi Devi rispettare Il regolamento di minecraft Ecco Secondo le regole del gioco Non puoi Allora No Streghe non ne vedo ragazzi Streghe non ne vedo Si sono In certi casi Sono abbastanza rare Anche se ne abbiamo già trovate 3 Quindi Sono Diciamo Rare in confronto A magari un creeper Che ce ne sono già 500 Ma Degli altri no Allora Non le vedo Non le trovo Non le vedo Non le trovo Oddio Io qua continuo A correre Ne partiamo magari Mangiare qualcosa Perché si è messi Veramente male Ok Qua non c'è nessuno Te cosa guardi pecora Vuoi combattere con me Vieni pecora Combatterai il mio fianco Ok Vediamo un pochettino Oh c'è anche un ragno Che ci segue Molto Con È un mio iscritto Con molta passione Mi segue Dove è andato a finire Di là Qua è pieno di zombie Me li salto volentieri Io voglio trovare un'ultima strega Perché so già che tra poco La notte non ci sarà più E avremo Bello che è finito Il nostro episodio Allora No No Scappa scappa Parati di qua Dove sei Oddio Mamma mia che brutto Che sei ragno Sì proprio brutto Anche il creeper è brutto Allora Io voglio una strega Streghe Streghe del cavolo Dove siete Là non c'è nessuno che mi segue E le streghe però non ci sono Giustamente direi Giustamente non ci sono Però là c'è uno scheletro Ok Oddio Dove cacchio sei Che giro hai fatto per finire lì Scusami Qua c'è una gallina Che non mi droppa niente ovviamente Oddio Ma perché non droppate nulla Io ho bisogno dei vostri drop Mamma mia ragazzi Veramente il combattimento più assurdo Per chi vuole degli episodi un po' movimentati Questo Sarà il suo preferito Penso perché Sto andando in giù a uccidere streghe Comunque L'alba si avvicina Ok L'alba si avvicina E le streghe Non ce ne sono più Abbiamo debellato la minaccia Ragazzi direi che per questo vi è tutto Magari ci sono stati dei tagli Non lo so Comunque Io come solito vi ringrazio Con gli scheletri che mi sparano Anzi anche loro vi salutano ragazzi Quindi niente ragazzi Qua Streghe Sono sparite veramente Non se ne trovano più Io quindi vi ringrazio Spero che l'episodio speciale Tra virgolette Vi sia piaciuto Perché comunque abbiamo fatto una cosa Che si poteva fare solo in questo video E quindi appunto Vi ringrazio Con questa bellissima alba Che farà di spawnare E bruciare Tutti questi Schifosi zombie Adesso voglio dirti bruciare Te Quando cominci Guarda Voglio Chiudere l'episodio con te che bruci Brucia Non vuole bruciare Adesso lo Dai Sole forza Dai 3 2 1 E Si Non prende fuoco Questo qua ragazzi Incredibile Beh comunque ragazzi Per questo video è tutto Io vi saluto E vi do appuntamento Al prossimo video Ciao a tutti